Ciao a tutti ragazzi sono Candy e benvenuti in questo nuovissimo video di Roblox Oggi come vedete mi trovo all'interno di Bubblegum Simulator e sono con tutti i miei vecchi amici pet Guardate, ve li ricordate ragazzi? Sono tutti i miei amichetti vecchi 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 E soprattutto ho notato una cosa proprio adesso che stavo rientrando Perché in molti mi avete detto che c'è un nuovo mondo da scoprire E non vi preoccupate, molto presto lo andremo a visitare Ma ho notato che... qual era? Allora aspetta se non sbaglio Era questo? No, non era questo, non era questo Qual era? È questo ecco, c'è scritto Enchant Io non so cosa voglia dire, posso Enchantare il mio pet e diventerà molto più forte 219, ok aumenta, uh aumenta di... non di molto però comunque aumenta E mi costa 1000 blocchetti di Lego per fare il primo Enchant Quindi lo faccio, poi mi costa 100.000 Posso quindi continuare all'infinito? A un certo punto ovviamente finirò i soldi, ok adesso è Enchant livello 10 Posso ancora andare? Andiamo, andiamo, andiamo Oh mio Dio, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Oh mio Dio ragazzi è molto molto più forte E ho appena raggiunto l'Enchantment livello 20 Che è il massimo da quello che mi è sembrato di capire perché non mi fa andare più avanti Ma lo posso fare con tutti per caso? Forse solo con gli Shiny Wow Che figata Vedete anche questo è Shiny e mi permette di Enchantarlo Anche questo presumo fino al livello 20 Eh sì, guardate, può andare avanti Wow, che figata, mi piace tantissimo questa cosa Quindi adesso i pet Shiny hanno molto più senso rispetto a prima Prima erano quasi inutili, erano un pochettino più forti degli altri Mentre adesso serve averli Shiny Il fatto è che questi che ho io sono molto molto rari Ed è quasi impossibile trovare più di uno di questi Per esempio il Marshmallow Arcobaleno ragazzi Ci vuole una fortuna incredibile per trovarle Io infatti l'ho trovato dopo migliaia e migliaia di uova aperte E quindi trovarne 10 di questo per farlo diventare Shiny Non credo sia possibile Comunque molto molto bello Adesso abbiamo quindi il Golem Plushy al prestigio 20 L'abbiamo incentato al ventesimo prestigio Ciao, e infatti si vede anche qua su Molto bello Allora, c'è un nuovo mondo ragazzi Beach World Ovvero il mondo della spiaggia Sono molto curioso Costa 150 Eh? 150 milioni Ah, ma io ho un miliardo Ok, compriamolo allora Pensavo di avere soltanto un milione Oh mio Dio, wow Ok, quindi siamo entrati nella nuova dimensione Nel nuovo mondo di Bubblegum Simulator Mi raccomando, lasciate tanti Beh, mi piace per vedere degli altri video in questo mondo E a quanto pare il premio per questo mondo sono le conchiglie Certo, ci troviamo in spiaggia Quindi è giusto che siano le conchiglie Ok, gonfiamo un pochettino il nostro pallone Oh mio Dio, si gonfia di 17.000 alla volta Così possiamo salire e a sbloccare la primissima isola E vedere che cosa ci aspetta in questa nuova dimensione Mi piace quando fanno gli aggiornamenti Bravi, bravi, bravi a tutti gli sviluppatori di questo gioco Così rendono sempre il gioco nuovo, fresco e divertente Ok, abbiamo trovato l'isola del mare quindi Che mi dà ben 1200 conchigliette Il fatto è che 1200 sono pochissime Ma perché ho appena iniziato E quindi nessuno dei miei pet mi dà delle conchiglie Dovrei trovare dei pet appropriati per questo mondo Ci vorrà un bel po' di tempo mi sa Allora, la seconda o la terza isola dovrebbe contenere Uno di quei personaggi che ti scambia qualcosa Per la moneta del mondo Quindi in questo caso mi scambierebbero qualcosa che io ho già Per delle conchigliette Però sono molto curioso di sapere che cosa vorrà Perché se mi dovesse chiedere degli smeraldi viola Allora ne ho un'infinità, ne ho due miliardi Però se mi dovesse chiedere invece dei giocattoli Che sono quelli del mondo precedente Allora sarà molto molto più difficile Da completare, da ottenere come cosa Allora qua ci sono le ricompense, giusto? Quindi qua posso trovare tanti nuovi pet Se non mi ricordo male Vediamo se ho ragione Qua posso comprare i nuovi pet Spendendo ovviamente delle conchigliette Però non penso ne valga la pena Quindi vediamo questi due pet che ho sbloccato Dove sono? Dove si trovano? Sono qua in basso? Per caso mi sa di sì Ok, questo Mh, niente di che è abbastanza scarso E poi Ah, questo ce l'avevo Questo ce l'avevo però Shiny ragazzi È un leggendario È uno dei primi leggendari che ho ottenuto Ok, continuiamo a salire Perché sono curioso di vedere che cosa ci aspetta lassù Io ovviamente ragazzi sono andato talmente avanti Con questo gioco che Ho dovuto prendere una pausa di un paio di settimane Perché ormai non c'era più niente da fare per me Avevo quasi tutto Era assurdo Avevo quasi finito il gioco L'unica cosa che mi mancava era fare una bella collezione di pet Ovvero averli tutti quanti Però come vedete già ne ho tantissimi Sono tutti quanti leggendari super forti Quindi sinceramente non mi conveniva fare una collezione Spendere tantissimi soldi In realtà non è che non mi conveniva Il fatto è che non volevo farlo perché ci voleva troppo Troppo, troppo, troppo tempo E come potete ben vedere nella tab Ragazzi io di tempo ce ne ho speso in questo gioco Infatti come vedete ragazzi Ho soffiato ben 317 milioni di volte Questa gomma E' tanto Vi assicuro che è tantissimo Vediamo cosa mi offre Di solito sono dei ladri Ecco ti fregano sempre Ti chiedono per esempio Dammi 3 milioni di gemme In cambio ti do 5 caramelle Magari questa volta non mi trufferà Chi lo sa Ok quindi abbiamo trovato adesso il reparto Delle conchiglie come immaginavo Ma c'è una ragazza Ok cosa mi dai Vediamo Ciao Sam Allora vuole le gemme Perfetto Quindi le devo dare le gemme ogni 2 ore Quante gemme vuole però E' questo che mi chiedo adesso Mi darà 60 milioni di conchiglie Per 600 milioni di gemme Vi rendete conto? Come vi dicevo Vi truffano Però vabbè Le gemme a me non servono più a nulla Ne ho Un bel po' Ne ho 2 miliardi E quindi va bene Ok grazie mille per le 60 milioni di conchiglie Mi sa che adesso potremmo aprire tantissime nuove uova Perché abbiamo un bel po' di soldi E spero di poter trovare un leggendario Anche da questo nuovo mondo Da questa nuova dimensione Ok resta l'ultima isola da scoprire Devo salire fino lassù Sono ad altezza 1750 metri Ci riesco ad arrivare là? Ci riesco? Ci riesco? Ci riesco? Non ci riesco Quindi atterriamo in questa I miei vecchi pet ragazzi Sono i miei amici fidati Quindi ovviamente li volevo utilizzare per questo video Visto che intanto non ve li facevo vedere da un bel po' di tempo E sono super colorati e super belli Ma in più perché dovevamo andare ad affrontare una nuova avventura In un nuovo mondo Quindi mi serviva tutta la forza possibile e immaginabile La prossima isola dovrebbe essere un'isola con i tesori Quindi con una cesta da poter aprire Che mi dovrà regalare Penso almeno un milione di conchiglie Meno di un milione sarebbe veramente pochissimo E via! Sbloccata infatti come immaginavo Questa è l'isola oceanica E ovviamente c'è un tesoro C'è una cesta La cesta dei pirati Vediamo quanto mi dà 9000 Wow 9000 è veramente pochissimo Oh mamma mia Ho veramente bisogno di trovare qualche pet Che mi dia i moltiplicatori per le conchiglie Perché altrimenti qua non ci guadagno assolutamente nulla Comunque abbiamo sbloccato tutti quanti i portali Qua abbiamo un pet leggendario per 6000 robux Come vedete è questo qua Però 6000 robux sono veramente tantissimi Questo invece costa 150.000 Io direi che possiamo iniziare da qua Ma prima di iniziare Intanto lasciate un bel mi piace Direi di svuotare l'inventario Perché abbiamo fin troppi pet che non utilizziamo Quindi li faccio diventare tutti shiny In modo tale che sarà più veloce svuotarli Oh mio dio ma questi sono tutti shiny Guardate quanti ne ho Ho tantissimi shiny Non lo sapevo Ok ragazzi Non mi metterò ad aprire 30 milioni di uova Non vi preoccupate Ne voglio aprire un paio Giusto per vedere più o meno quali pet posso trovare Abbiamo già trovato un raro Oh mio dio fantastico Però 18% di possibilità di trovarlo Quindi non è così tanto raro Vediamo un pochettino cosa mi da Mi dovrebbe dare teoricamente Infatti ecco Uh 105 conchiglie Eh mica male Non fa schifo Anzi è ottimo Ottimo inizio Dal primo uovo abbiamo già trovato Un ragno raro Due ragni rari E un epico Eh vabbè ma che è oggi La fortuna del principiante Vediamo dov'è l'epico Questo è l'epico Uh il demone della spiaggia 135 conchiglie Iniziamo alla grande 1,5% di possibilità di trovarlo E io l'ho trovato subito Questo mi rende molto 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 contento ragazzi Ok ovviamente abbiamo trovato anche i common Io voglio trovare un epico e un leggendario Dai se ho fortuna oggi lo riesco a trovare Lo riusciamo a trovare subito Ti prego ti prego ti prego Dammi un leggendario Dammi un leggendario Dammi un leggendario Eh epico Ok un altro epico Buono 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 Più epici troviamo ragazzi Più possibilità abbiamo di farli diventare shiny E poi enchantarli Wow ma che pet ha questo Guardate È stranissimo Non l'avevo mai visto E lui c'ha un cappello da stregone bellissimo Wow Questo mi sa che è scioppato tantissimo ragazzi Common unique common Ok va bene va bene Ho trovato un raro Ho trovato un raro però non è un raro normale È un raro shiny Dove 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 si nasconde Oh mio dio ma quanti ne ho di questi Eccolo 210 E lo posso anche enchantare Guardate 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 Aumenta 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 Sì fantastico Gli ho dato 20 enchant Secondo me ne vale la pena Ho fatto bene a farlo Allora disattiviamo tutti i nostri pet iniziali Perché questi in questo mondo Non ci servono assolutamente a nulla Quindi via 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 e via anche tu Eh perfetto E adesso possiamo equipaggiare quelli nuovi Come per esempio lui che mi darà 315 per Anche te ovviamente Anche te Benvenuto nel team Sì 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 Tu pure Tu pure Tu pure Tu pure E un'altra ancora Perfetto Adesso abbiamo la squadra al completo E tutti questi Mi faranno guadagnare tantissime nuove conchiglie Andiamo a testare immediatamente Proviamo ad aprire una di quelle casse piccole piccole che si trovano in questa isola Vediamo quanto guadagno Oh mio dio di già 100.000 Ho appena scoperto questo mondo ragazzi Io ho già dei pet super micidiali Come per esempio lui Guardate il ragno rosso E' ingiantato a 20 livelli Ragazzi mi raccomando Lasciate un bel mi piace Se vi è piaciuto questo video Dal vostro Candy è tutto E noi ci vediamo domani Con un prossimo video di Roblox Ciao